Tra le squadre irpini a partecipare alla Maratona di New York, quella che si è posizionata meglio è l'Avellino Runner. I primi tre atletti irpini infatti appartengono a tutti alla scuderia vellinese Nando Romano, Carmine Costabile e Luciano Capozzi. Una soddisfazione per una realtà che ha partecipato per la prima volta all'evento di caratura internazionale. La prima volta che Avellino Runner partecipa a questa manifestazione, una manifestazione che ha portato dei risultati eccellenti per la provincia di Avellino e soprattutto per la città di Avellino. Nonostante le tante difficoltà che abbiamo incontrato negli anni precedenti. Soddisfatto soprattutto Carmine Costabile, il primo tra gli irpini. È stato comunque un risultato sorprendente, non peraltro per la difficoltà della gara che era abbastanza dura, però ero pure consapevole che abbiamo fatto gli ultimi allenamenti abbastanza duri e quindi diciamo che sono rimasto molto contento. Comunque poi il risultato è relativo perché poi alla fine la passione, la corsa è quella che conta di più, cioè il superarsi di se stessi, insomma questa è la cosa più importante. Risultati che arrivano in mezzo a tante difficoltà come quella ad esempio di non avere una struttura adeguata sulla quale allenarsi. Resta sempre più difficile allenarsi dal punto di vista proprio pratico. Ci troviamo oggi sul Campo Coni, nonostante abbiamo rappresentato la città di Avellino, ci troviamo in uno stato di degrado. E degrado in che senso? Che c'è una struttura fatiscente, le docce non funzionano, i ragazzi, i bambini che vogliono incentivare la tradica leggera non possono allenarsi perché ovviamente i bagni sono fatiscenti e rinnovo anche all'amministrazione le problematiche che ci sono in questo momento. Avete fatto presente in questo periodo queste problematiche? Sì, l'abbiamo fatta presente. Ovviamente condividono le difficoltà, ma noi non abbiamo bisogno delle persone che vanno a condividere le difficoltà, noi abbiamo bisogno delle persone che risolvono i problemi.